Flavia Ferrari, una giovane atleta di 24 anni, ex mezzofondisse, membro della Nazionale Giovanile, è tragicamente deceduta dopo essere stata colta da un malore durante una sessione di corsa. La triste notizia è stata annunciata dalla Fidal, che ha voluto ricordare l'atleta romana. Flavia, gareggiato per la squadra studentesca Rieti Milardi, ha rappresentato l'Italia nella categoria Juniors, partecipando agli europei Under 20 del 2017 a Grosseto nella specialità degli 800 metri. Tuttavia, all'inizio del 2020, si è ritirata dall'atletica a causa di gravi problemi di salute, che non le hanno permesso di continuare la sua carriera. Nonostante ciò, nel 2021 è riuscita a conseguire la laurea in Scienze Biologiche, dimostrando la sua determinazione e il suo impegno, nonostante le avversità che ha dovuto affrontare.